Salve, sono il dottor Leo Tondelli, laureato in medicina e chirurgia. Mi sono avvicinato all'odontoiatria che ha suscitato in me subito un grande interesse, tant'è che ho aperto negli anni 80 il primo studio odontoiatrico. Dal 2006, insieme al dottor Giuliano Malaguti, abbiamo aperto lo studio odontoiatrico associato. Negli ultimi anni è stata decisa l'apertura della struttura poliambulatoriale attuale di cui sono direttore sanitario.